ciao fragoline nuovo video dato che il video che avevo fatto di dei grattevinci ho visto che è piaciuto tanto allora ho detto perché non lo rifaccio però questa volta volevo provare con i portafortuna che sono praticamente quelli da un euro se per caso questo video piace ancora di più ovviamente farò quello da 10 euro da 5 euro da 20 euro cioè prenderò i grattevinci da 5 da 10 eccetera comunque prima di grattare insieme a vedere se abbiamo vinto ma tanto come sono sfigata io non vinco mai vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per non perdervi neanche un solo video in cui io pubblico seguirmi su instagram se non l'avete ancora fatto mi raccomando un bel mi piace e un commentino qua sotto se anche voi giocate ai grattevinci allora questo video ovviamente è per divertimento e basta non è perché cerchi di vincere perché lo sappiamo tutti che i grattevinci di avere fortuna e ovviamente portano via tanti soldi per cui ad esempio io ho speso 5 euro per 5 grattevinci per farvi capire comunque i commenti negativi verranno cancellati non si sa mai se ci sarà qualche persona che dirà la sua ovviamente negativo negativo per cui vi assicuro che verranno cancellati iniziamo dal primo e e vediamo cosa succede dato che così si vede meglio cercherò di grattare così cosa non vedete mi avvicino un po spero che riesco a farvi vedere ma sarà difficile allora iniziamo male sapete perché perché quando ci sono numeri alti come 100 e 100 euro no non è quella la cifra perché non sarà quella comunque state tranquilli che 100 euro non li vincerò siamo a 100 100 manco un 100 ma non uscirà 500 40 che pare 500 grattiamo bene perché spero che lo vedete va bene tanto ve lo farò vedere perché non si sa mai se vinco e poi e ovviamente e ovviamente lo sapevo perché quando ci sa ci sono numeri alti non vince mai niente comunque non ho vinto niente 100 100 500 40 540 questo il primo spero che si vede perché perché certe volte ok comunque non ho vinto niente grattiamo quello allora non so se così quasi mi metto giù così riesco a grattare meglio perché direi che non riesco a grattare così e poi forse voi non vedete per cui forse è meglio che voi vedete quello che è gratto quello che esce ok così si vede bene iniziamo dal primo ok ok allora un euro 10 milioni un euro 141 euro ho vinto un euro grattiamolo bene almeno qualcosina diciamo che non ho sprecato soldi ho recuperato un euro questo per fortuna c'è almeno un vincente grattiamo gli altri che sono talmente sfigata c'è 20 20 10 10 500 500 sembra che lo fanno apposta c'è sono sfigata mamma mia iniziamo con l'altro vinto niente 5 euro 40 20 100 140 ovviamente l'ultimo gratte vinci che ovviamente non sarà fortunato 20 euro 10 euro 500 dai tanto non abbiamo vinto niente 10 euro tanto non ci sarà il 10 euro qua 500 e l'ultimo sfigato sarà 20 ovviamente per cui il bello che sono tutti c'è ne manca solo uno qua 20 qua 20 500 500 10 10 c'è praticamente ne manca c'è praticamente ho recuperato solo un euro e questi qua invece sono quelli perdenti siamo messi ma cioè se iniziano con una cifra altissima già sai che questo non lo vince invece se iniziano con un euro due euro con quello sei sicuro che vinci infatti già ho visto un euro e ho detto vabbè dai ho capito che ho vinto un euro comunque niente io speso 5 euro e mi sono cucata un euro meglio di niente fatemi sapere se volete che provo a prendere i gratte vinci di 5 10 euro e 20 ovviamente avrò il mio budget perché non è che spendo così tanti soldi e poi ripeto io questi li prender cioè li prendo una volta al mese ma neanche una volta al mese quando c'ho voglia che dico vabbè ci voglio i soldi proviamo a vedere se vinco cioè così faccio non è che li prendo tutti i giorni voglio precisare questa cosa qua sono sfigata diciamo che sono sempre stata sfigata in tutto anche sui soldi e sulla fortuna vabbè meglio di niente fatemi sapere se anche voi non so comprate queste cose se anche voi avete vinto qualcosa fatemi sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere se volete ancora il video dei gratte vinci che se andrà bene anche questo video ne farò altri perché vedo che non so la gente piace va bene detto questo un bel like se il video vi è piaciuto qua c'è sempre casino iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per far sì che non perdete neanche un mio video e seguirmi su instagram mi raccomando che lì metto tantissime foto e faccio vedere tante cose che faccio su instagram e qua no detto questo ci vediamo al prossimo video ciao